Per quanto riguarda la tua domanda a proposito della scala blues e dei gradi da cui è composta, dunque abbiamo primo, terzo da bemolle, quarto, quinto bemolle, quinto, settimo bemolle. Negli armonici naturali, quindi parlando di acustica fisica del suono, il quinto grado bemolle è l'undicesimo armonico in natura. Devi sapere che ogni suono che noi ascoltiamo, che proviene dal pianoforte, può essere un uccellino, può essere qualsiasi tipo di suono, è suddiviso in varie frequenze. Queste frequenze si sovrappongono tra loro e costituiscono gli armonici, gli armonici acustici. Questi tipi di armonici presentano sempre, fino al decimo suono, le note diatoniche di una scala maggiore, ma all'undicesimo suono, quindi parecchio distante, dopo i primi dieci suoni percettibili, abbiamo la nota quinta bemolle.